Salve a tutti ragazzi, sono Marlo Minetti, all'evo di Marco Pellegrino. Che cos'è il nulla? È il negativo, il non qualcosa, eternamente contrapposto alla totalità degli essenti. Il nulla, che è totalmente negato dall'essere, è anche parzialmente negato, cioè parzialmente affermato. Infatti, se il nulla non fosse così parzialmente affermato, non si potrebbe appunto affermare che l'essere non è il nulla.